se questo è una locanda del cavolo quanto pare ma in teoria 165 1 no sta costa bellissima della letalità ma la distanza psichico potrebbe essere utile questo qua magari contro non so dico io è contro l'assoluta magari questi costano un sacco ma se tartufo pincopallo mi hanno tartufo ghiando dove cavolo mai visto io c'è vabbè ok sì sì c'è anche le stanze per dormire segni sulla latrina che qua appunto se uno dovesse fare dell'indagine dovrebbe appunto tipo leggere libri o trovare libri e poi no 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 good sir give me three days and oh apologies thought you were someone else greetings so forth so on theon one of mamzelle's girls laughs like a star's twinkle not seen her for a 10 day 10 days and four bells to be precise not that i'm counting missing missing i hadn't thought her missing just not here or elsewhere oh i suppose that's like missing but with extra words you don't suppose the murderer who's on the loose got hold of her oh goodness no it's too horrible to imagine how dare you accusing an upstanding citizen like me of being a dwarf I'm a halfling you hoof ah ok mi piace perché alcune volte ci sono gli effetti neri altre volte no eppure è anche una porta che non è chiusa a chiave non riesco a capire la logica per me è sumbo siete che sono loro che devono mettere un l'aria diciamo così l'aria che poi è un parallelepipedo con questo effetto qua ma l'abbiamo visto due o tre volte in croce proprio in tutto il gioco anche qua mostra un po' i limiti della discussione no c'è dei sistemi di dialogo perché a parte che lui si era offesa non doveva più parlarci però ci ha risposto come se non non avessimo parlato con lui poco fa no il problema è che lì bisogna mettere tutti dei cioè va tra virgolette programmato in una qualche in una maniera differente ma non capita poco a poco su pochi dialoghi c'è questa attenzione diciamo ma mu ma cosa cambia monete d'oro monete d'argento no e alla fine pesano un sacco anche a tutta questa cosa comunque vabbè non credo che siamo a corto di scorte alimentari per ora qua non abbiamo scoperto un accidenti per andare su questo che ha occhi a progenie cioè qua ci sono tre quest praticamente due o tre quest come di là cazador promised you your freedom and you believed him you were never burdened with intelligence Petras but your load seems especially light these days a starian it cannot be that's no way to welcome back a brother doll didn't you miss me why would you come back you got out you were free of course that's why he came crawling back he wants to ascend with the rest of us he heard about the ritual and the power our master will grant us so he came back with his tail to his house hoping all would be for the rest of us you always were an idiot Petras why does cazador need me what is he planning non so ci mettiamo contro di nuovo a starian se è sempre negativo con lui oh questo un attimo il master is preparing the black mass beneath his palace there's a defiled chapel it was hidden there the entire time hidden from us all keep talking the black mass it will be his triumph he'll complete the ritual and emerge the vampire ascendant he'll walk in the sun he'll be free of the hunger he'll wield power no vampire has ever possessed ecco lo che facciamo anche noi c'è Astarion ma lui già va al sole non mi ricordo se ci ha dato una spiegazione mi sembra di si forse però non me la ricordo it's fate written in your very flesh yes and they'll be trembling in fear when they tell him they're no threat to us and they have no choice but to do cazador's bidding ma anche per questo che dico che manca un glossario ed è assolutamente una cosa grave cioè capisco che il gioco sia grande quindi diciamo che molto probabilmente non è che non volevano farlo ma non ne hanno avuto materialmente la possibilità diciamo perché era interessante avere tutta una parte di glossario in cui man mano introducevano spiegavano cos'erano gli arpisti cos'era questo cos'era quell'altro e magari appunto anche le biografie dei personaggi arricchendole man mano non semplicemente che abbiamo la loro quest è proprio la biografia no? non dico magari tutta di botto io preferisco le cose dinamiche preferisco che magari appunto man mano però non c'è non c'è nessuno che non c'è nessuno che non c'è nessuno che non ha nemmeno gli occhi rossi lui? Illuminati? e se io fosse ascoltare invece di lui? la libertà di Cazador una volta e per tutti chiusura sicuramente quindi se non gli sfondo mai un giorno sai che non la vita ho pensando che avrò il resto mio life a seltro da lui e se poterlo da lui potere da lui, mi renderebbe libero, davvero libero! dobbiamo sapere, dobbiamo face a lui! a ho, avuto a che era l'accordo. tu è un amico e ora sappiamo che incavo in una passata. possiamo raccontare a Casador. ok pusiamo? Oggi! Questo lo stacca di sangue e disposte! Ok... Furtse e l'inio... ...furtse e l'inio... ...non mi preoccupi se faccio? Che cosa è così? no c'è una scala qua qua c'è un po' di roba che si potrebbe provare a scassinare ma c'è una porta guarda che in teoria noi potremmo tenerlo occupato io credo che possiamo per esempio fare una cosa di questo tipo dove è andato? per esempio vieni qua penso c'è da là ma come funziona io anche qua non capisco la logica se non siamo visti siamo in un'altra stanza lui è bloccato di là ma che cavolo dice no? io mi metto qua no? in teoria lui si gira di qua anche se però non lo vediamo girare perché cambia l'inquadratura ma non si riusciamo non riusciamo a dialogare con lui in questo momento è questo il problema o per lo meno non credo che sia l'unico problema niente però sono sempre lì cioè se io uso questo e poi per carità mettiamoci invisibile a parte che non c'è niente praticamente è il fatto che sono anche tutti chiusi bravo prendere uno ma vaffan bagno ma vavano 100 stracci mi sa a meno che uno di quelli lì c'entra qualcos'altro ma buonanotte non ho voglia qualunque cosa sia non mi sembra che valga lo sbattimento dobbiamo andare sopra qua comunque andiamo davanti a una mappa e trova un uso per la carità ah giusto esplorare la la stanberg andiamo su chi tra vos perde la condizione c'è ma è qua cavolo buonasera viaggiatore ah aha qui c'è una stanzetta sembra ma no Resta qui ancora? Boh anche questa cosa qua Sai è venuto su cosa sentiva? Che arma? Vabbè avete capito insomma Che ero lì che trafficavo con gli strumenti Questa praticamente sta facendo il guardiano qua Facciamo così Non so se è più silenzioso in questo modo Ok Ok Chiave di Fion Perchè se sono aperto? Ah si si Fion La Fion Il migliore delle moglie Il migliore delle madri Questa la raccoliamo e basta Vantaggi e tiri per danni Ah cosa vuol dire? Tonico, cervello svelto, vino dolce Ovviamente immagino che non ci possiamo parlare insieme Il migliore Il migliore Il migliore Il migliore Vanta Il migliore Mi amore Mi amore Perché Upposti Un'azvolta L'azvolta 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 Il corpo resta in silenzio Non lo sapeva L'azvolta No Vediamo un attimo Il cadavere non può più parlare Era scegliere da Che aspetto a tuo figlio Però va bene Non credo che sia un problema Ma Si poteva aprire Semplicemente cliccando con la cosa Forse si apriva con la chiave E basta Ok Ok E 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 Allora Questo qua lo raccogliamo Meglio che lo raccolga lui E 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 Banca del sangue Banca del sangue Allora Vediamo un attimo Qua bisogna tornare Una tipa Dall'olioifante Valeria Questo Pro Questo però si rife Aspetta aspetta che sia stato fuori questo abbiamo trovato se uccidiamo due per sei da questa lista e portiamo una mano mozzata Come prova Una mano mozzata Ce l'abbiamo quella del pagliaccio Ma che dovremmo ammazzare questi due bersagli così a vanver Questa porta così A parte potremmo scappare di qua diciamo per esempio se venire rompi palla la E E E Sto pensando Torniamo magari al All'accampamento Andiamo su Lazza al posto di Carlac E poi qui E poi andiamo Qui ci sarà da Valeria Vedere un attimino ancora C'è Vos qui attaccato Vabbè Andiamo un attimo Allora Lasciamo giù lei C'è C'è un peccato avere così tanti Compagnons e poi dopo non si può sviluppare la storia perché è difficile portare C'è Se poi non si può portarle C'è 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 Ma Dove C'è 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 Vabbè, ma l'aspirazione anche a cui mirava non è solo quello. Ma in realtà, non è solo quello che avevo fatto per me, ma è più una nuova regia, una nuova terra, una nuova alliata. Vlachith non può non fare un'altra persona che non è ancora più existente. E così, da l'ultima battlecrisi birthi un'altra. T'ma salar Orpheus, ma stilna forgini in yeri. Orpheus'i wille è più di tutto. Orpheus'i libertà è la mia voglia e la mia necessità. Per denicare la sua libertà è di denicare la mia propria. Ci sarà un momento, quando potrei pensare a mezzogliere la Lich Queen che incontrava i Githyanki, e il Prince che libererà i Githyanki. Ma il momento non arriva, fino a che il Prince della Comunica volerà di nuovo. Ok. Morpheus Tovkinazin! È finito! È sufficiente di aspettare. La taglia dei tuoi dadi superiorità aumenta a un dado da 10. Questo. Questo è sempre interessante. ... 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